Torna a D'Anghiari la mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana, giunta la sua 43esima edizione. Nel borgo medievale, dal 21 aprile al 1 maggio, dunque il meglio del fatto a mano, dal legno al cuoio, dai tessuti al ferro battuto, passando per la ceramica ed infine i metalli preziosi. Quest'anno arriviamo a un record di espositori, siamo a 65-70 espositori. Senza considerare poi tante piccole realtà locali. Quindi è una cosa abbastanza importante, soprattutto cade in un periodo fortunato anche per i ponti, per il clima, per tutto quanto e se ci mette una pezza anche il Padre Eterno, probabilmente avremo un mezzo record. È un appuntamento assolutamente irrinunciabile per il mondo dell'artigianato, dove le eccellenze, non soltanto del nostro territorio, ma un po' del centro Italia, vengono esposte direi in un ambiente unico che è quel borgo meraviglioso che è Anghiari. Vedo la trasformazione dei nuovi artigiani, i nuovi artigiani che oltre a mettere insieme la loro creatività, le loro competenze, oggi mettono insieme anche le nuove tecnologie. E questo è da non sottovalutare, perché vediamo veramente la nuova trasformazione, il nuovo Made in Italy che va verso quello che è il 4.0. Ospite di questa edizione è la città di Deruta in provincia di Perugia con gli artigiani della ceramica. La comunità di Anghiari aveva in passato non dei ceramisti ma dei cocciai, come esisteva una volta, quindi era una ceramica funzionale, proprio estrema. La crisi particolare in cui versa purtroppo la ceramica di Deruta, il mercato, ci ha spinto a trovare una sorta di complementarietà e gemellaggio fra queste due realtà. Torna infine per la seconda edizione il premio dedicato a Leonardo da Vinci. Gli artigiani che aderiscono al progetto di Messia dell'arte sono stati invitati a presentare un pezzo nuovo, in qualche modo ispirato all'opera di Leonardo da Vinci e quest'opera sarà presentata in mostra per ciascuno a Palazzo Pretorio durante lo svolgimento della mostra di Anghiari e il 26, un giovedì, ci sarà la premiazione.